Direttore Udinese ripresa ancora in extremis, però nel secondo tempo c'era stato un calo e il Bologna aveva dato la sensazione di poter colpire da un momento all'altro. C'è anche un avversario in campo, certo è un pareggio amaro perché arriva nei minuti di recupero e dopo un primo tempo ottimo giocato dall'Udinese, però il Bologna nel secondo tempo ci ha creato dei problemi perché ha voluto fortemente il pareggio, poi l'ha ottenuto forse quando nessuno pensava più lo potesse ottenere. Però non vorrei neanche che si trasformasse l'idea che un pareggio fuori casa su un campo difficile come quello di Bologna poi passa per una sconfitta perché questa squadra ha dato tutto per ottenere il risultato, tutto sommato siamo con tre partite di seguito utili, di cui due fuori casa e un in casa. E io devo vedere il bicchiere mezzo pieno perché il campionato è ancora lungo e questa squadra ha bisogno anche di essere incoraggiata nel momento in cui c'è la delusione per questo risultato acciuffato in estremis dal Bologna. Ecco, lei si sofferma giustamente sull'aspetto anche psicologico, dall'alto anche della sua esperienza. Come ha visto anche magari i ragazzi perché dura da ingoiare come Bocconi, è successo a San Siro al 93esimo, oggi ancora una volta al 91esimo, comunque al 92esimo nel recupero. Allora, i ragazzi in questa partita hanno profuso tutto quello che avevano, poi magari possiamo dire se il Bologna nel secondo tempo aveva magari una determinazione che l'ha portata a riuscire a pareggiare, però si sa che sono due le squadre in campo, non è che si può dominare una partita per 95 minuti. E quindi questi ragazzi vanno ora sollecitati a continuare, perché la giornata comunque si conclude con un punto in modo positivo per la classifica ed anche per la miniserie positiva che stiamo mettendo in atto. L'ultima, perché anche un po' i tifosi è chiaro che presto avranno un po' il fiato sospeso per Sema, che è uscito al 37esimo, quando c'è di mezzo il ginocchio è chiaro che c'è sempre apprensione. Speriamo bene, il ragazzo mi ha detto che non ha sentito nessun crack, quindi la sua sensazione è che non ci sia stata una rottura. Diciamo però bisognerà aspettare gli accertamenti più approfonditi che si faranno al rientraudine.